Nel Terramano i lavori di manutenzione sulle strade statali 16, 80 e 150 di competenza ANAS sono stati interrotti dal 23 dicembre 2023. Questo a causa di condizioni meteorologiche avverse e ritardi nell'attivazione dei pod e punti di rilascio per i contatori dell'energia elettrica. Una vicenda su cui è intervenuta l'Associazione dei consumatori Robin Hood che non ritiene valide queste motivazioni, poiché la stagione invernale è stata mite e l'attivazione dei pod su una strada servita a tempi brevi. Per questo motivo ha annunciato l'intenzione di presentare un reclamo formale alla Corte dei Conti di segnalare la situazione al prefetto di Terramo. Noi riteniamo queste delle scuse per prolungare il termine dei lavori ma il tempo da dicembre ad oggi sono passati 5 mesi, quindi è veramente poco credibile. E quindi abbiamo attenzionato per questo motivo l'autorità competente che è la Corte dei Conti per quanto riguarda eventuali aumenti dei costi di questi cantieri. L'Associazione da quest'anno ha iniziato a monitorare i cantieri pubblici perché riteniamo che il denaro pubblico abbia una sua valenza e soprattutto perché il denaro pubblico è costituito dalle tasse che pagano tutti quanti i cittadini. Quindi in questa nuova funzione di cui abbiamo preso carico una delle cose che noi facciamo è monitorare i cantieri anche dell'ANAS. Infine l'Associazione Robin Hood ha sollevato dubbi sulla gestione di un cantiere vicino a Montore Alvomano dove nonostante il cantiere sia segnalato come chiuso la segnaletica e alcuni dispositivi di sicurezza sono ancora lì da tempo. Di quello che abbiamo attenzionato è il cantiere fantasma, il cosiddetto cantiere fantasma dove ancora c'è la segnaletica del cantiere, ancora il cantiere non è stato ultimato che è quello a ridosso del comune di Montore Alvomano partendo da Terramo all'altezza dell'opificio Paisani. Lì per esempio non si capisce perché i lavori non siano stati terminati e perché questo cantiere sia scomparso.